scappa marci oh mio dio ragazzi oh mio dio ma che cos'è a questo posto perché mi dice di no perché mi dice di non ucciderlo forse questa cosa non l'avrei dovuta fare amici non avrei dovuto fare quello che ho fatto direi che è il momento marci da dove hai tirato fuori quel fucile? l'ho comprata perché ho speso 64 di titanium e 64 di bronzo ma da chi l'ha comprata? non lo so ragazzi l'ha trovato lui però sono felice perché almeno è dalla nostra parte però marci non sprecheri i colpi scusami cosa stai facendo? ma ne ho tantissimi ragazzi vi regalo anche una cosa a te e una cosa a te tre ascoltate me due uno campioncini campioncino ragazzi ci vediamo di là va bene? ok a dopo ragazzi andiamo! ma dove diamine siamo finiti? raga perché non mi risponde nessuno? Steph? Fere? Steph? Fere? Marco? no raga non mi risponde nessuno dove siamo finiti? siamo in una terra desolata sembra come se ci fossimo teletrasportati tutti in posti diversi anzi nei commenti ditemi dove sono sponati gli altri perché voglio saperlo cos'è questo libro? tasto destro vediamo un po' come che si chiama quest book quindi il libro delle quest oh ragazzi mi ha fatto partire quest completata capitolo 1 perché ho cliccato solo su capitolo 1 wasteland block dobbiamo iniziare rompendo i wasteland block e collezionare poi questi reward qua che sono le cose che ci darà proviamo subito ragazzi se funziona no ragazzi guardate in alto di me sopra la facecam che mi dà il progresso del blocco bellissimo questa cosa ok 4, 5, 6, 7, bellissimo, 8 e vediamo un po' se funziona questa cosa questa completata wasteland block bellissimo ragazzi ok si io faccio così quindi io queste qua posso prenderle ma va ragazzi bellissimo ok calma dobbiamo cercare di capire innanzitutto dove siamo dove possiamo sostentare dobbiamo parlare con gli altri però non mi rispondono vediamo un po' ora niente ma se non mi rispondono vuol dire che non possono leggere i miei messaggi e questa cosa mi sta un pochino triggerando facciamo un attimo un po' di esplorazione vediamo se c'è qualcosa ok qua c'è qualcosa vediamo che cos'è questa roba qua ok meteor block pickaxe level stone va bene quindi dobbiamo craftarci la cobblestone immagino come facciamo a farci questa cobblestone io direi che a questo punto io prendo il nostro quest book ah stone guarda come ho detto la cobblestone usando il crafting grid usando i wasteland block quindi come devo fare se clicca mi fa cliccare sopra mi fa vedere bello ah ecco qua vedete due wasteland block mi danno della cobblestone vediamo se funziona ma va ma che bello ragazzi cobblestone abbiamo craftato la cobblestone ottimo adesso vediamo se mi da ok come reward mi da il coin mi da dei coin e che questi coin che cosa ah in alto a destra in alto a sinistra economy coins posso prendere lo shop puoi vendere per dei soldi usando lo shop che è questo qua che me l'ha dato ragazzi ma va che spettacolo vediamo un attimino come funziona cioè lo posso mettere giù posso cliccare no devo metterlo tipo giù da qua ok vediamo un po' lo posso rompere solo col piccone di stone perfetta sta cosa ah guardate che bello bui posso comprare queste cose per 15 e io non ho niente ragazzi cioè il mio inventario è 50 posso invece vendere questi qua e mi danno 2, 3 che spettacolo ragazzi spettacolare ah vedete queste monete qui ci danno dei soldi se io metto questi qua qua dove li devo mettere devo tipo cliccare allora questi qua sono di abbiamo detto ferro quindi sono no sono di tin vedete mi dai soldi ma questa cosa è incredibile però non posso spaccarlo abbiamo detto quindi evitiamo di spaccarlo prima di avere fatto il piccone il piccone come si fa ah qua posso prendere altri soldi vediamo abbiamo preso quelli di iron in questo caso vendiamoli questi qua di iron spettacolare ragazzi spettacolare mi da 10 ok ottimo direi poi andiamo avanti con le quest vediamo un pochettino cobblestone chest come si fa questa cobblestone chest si crafta con i cobblestone parts che si fanno in questa maniera quindi dobbiamo metterci qui ragazzi e prendere veramente tantissimo di questo materiale che è il wasteland block quindi il blocco della terra risolata oggi conto di farmi anche una base segreta perché penso che sia l'opzione migliore vediamo un po' quanti ne abbiamo 8 arriviamo fino a 10 ragazzi perché è un po' lento prendere le cose così senza niente però vabbè possiamo farlo ok così ne abbiamo 16 così ne abbiamo un pochettino ok 4 perfetto e se io faccio questa cosa qui cosa mi da mi da una chest ma prima della chest non posso craftare qualcos'altro ah ecco qua vedi stone crafting grid posso craftarmi una versione di stone della crafting table interessante si fa in questa maniera ok cobblestone mi dovrebbe dare lo stone crafting plate però se metto questi qua così me li da vediamo un po' si me li da ragazzi ok quindi dobbiamo prendere un altro pochettino di questi cosi qua mi piace questa cosa mi piace questa cosa ragazzi è bellissima quindi facendo così abbiamo detto ci da un po' di cobblestone se faccio in questa maniera ce ne da un'altra noi ce ne serve un'altra ancora quindi prendiamo tutto quello che ci serve sarà un po' lungo questo inizio sta diventando anche notte credo quindi io devo trovare un riparo e aspettare che arrivi il giorno e questa cosa non è che mi piaccia così tanto no non devo far così così devo fare ecco vedi che avevo sbagliato ok ecco qua che abbiamo quattro di questi qua ottimo poi se faccio così dovrei avere la stone crafting table bellissimo ragazzi vediamo qual è il nostro regalo ci da dei random coin ce l'ha dato di vediamo un po' di enderium vediamo questo enderium che cosa ci da quanti soldi ci da vediamo sell ok 120 abbiamo 240 spettacolo bello guardateci da anche i blocchi da costruzione quanto costano questi qua uno costa tre abbiamo pochi soldi qua abbiamo delle pistole questo costa 150 la pistola con le munizioni ok allora con calma ragazzi direi che facciamo che la base intanto ce la teniamo da questa parte capiamo un attimino come si crafta allora la cesta non ci serve per adesso facciamo il piccone che si crafta con degli stick che credo che si possano fare con la stone a questo punto io penso di si ragazzi penso che tu possa craftare uno stick con della stone non voglio dire una cavolata ma penso che sia così allora questa è la stone vediamo non me li fa fare questi questi stick allora mettiamo la crafting table allora facciamo così ok adesso vedete che me li da ottimo 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 ragazzi questa cosa è bellissima mi mette un po' d'ansia il fatto che non ci sono i miei amici devo essere sincero di questa cosa speravo che potessero essere con me ma a quanto pare non ci sono e questa cosa un pochino mi dà fastidio però fa niente a questo punto dobbiamo andare avanti da soli facciamoci altra cobblestone io credo che se faccio così mi posso fare il piccone eccolo qua ragazzi abbiamo completato un'altra quest siamo fortissimi siamo vediamo un po' cosa ci dà questo ci dà un random coin sempre ce l'ha dato di nuovo di enderium ma che fortuna allora io a sto punto questo lo vendo sicuramente perché non mi interessa tenermelo dobbiamo 360 dobbiamo stare attenti ai mob ragazzi perché secondo me i mob sono veramente super super pericolosi ma io posso anche fare la pala ditemi che posso fare anche la pala posso fare anche la pala ragazzi quindi a questo punto prendiamoci un sacco di questa roba qui io direi che siccome di utilizzi ne ho 128 vado lo finisco e e prendo 131 pezzi di questa roba qui cosa abbiamo veramente un sacco un sacco di roba però prima devo togliere questa roba che è terribile che è l'autogamp io lo odio l'autogamp non lo sopporto ok sta diventando notte e questa cosa mi sta un attimino prendendo d'ansia allora abbiamo uno stack e uno non so ho perso due pezzettini non so dove li ho persi ma guardate un po' qua ho 0 di 131 e non si rompe vedete non posso più utilizzarla è pazzesca questa cosa ok allora a questo punto direi che devo andare tipo sotto terra in qualche modo anzi facciamo una cosa craftiamoci un momentino facciamoci un momentino una sorta di non so base momentanea e dopo facciamo la nostra base super segreta la facciamo così ok molto piccolina ragazzi non deve essere grande anzi deve essere super piccola ma solo che ci contenga dai mob perché credo che ci sono dei mob ostili da queste parti non vorrei dire una cavolata ma cosa sono queste cose qua sono dei creeper sono ok l'ho ucciso monster hunter ok cosa ci ha dato ci ha dato del sulfur vediamo il sulfur che cosa serve no 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 questo esplode aiuto aiuto questo potrebbe esplodere aiuto no 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 ce n'è un altro là dietro ok devo stare attento ragazzi devo stare attento questo esplode lo sapevo che esplodeva però io qua posso prendermi tranquillamente tutta questa stone che mi potrebbe essere utile Optimus Prime ciao come stai? oh è matto è matto è matto ragazzi mi sta seguendo è matto scappa marci oh mio dio ragazzi oh mio dio ma che cos'è questo posto ma che cos'è questo posto sali ma stiamo scherzando allora no no tu cosa vuoi fare cosa vuoi fare ehi senti qua un attimino eh cos'è che mi ha droppato io questi qua li vorrei uccidere però vediamo se riesco a ucciderli in qualche modo perché mi danno sia esperienza che mi può servire ok ok ha dato delle patate ragazzi ho dato delle patate devo buttarmi ok ok lo ucciso ci sono anche lui saliamo ragazzi mi ha dato delle patate aspettate un attimo facciamo una cosa capiamo se possiamo craftarci della terra dirt vediamo la dirt se si fa in qualche modo non mi sembra serve l'overwardian matter ma è difficilissimo fare queste cose ragazzi allora niente lasciamo perdere questa cosa le quest per oggi direi che bastano perché se no andiamo ah facciamo la cobblestone chest abbiamo preso degli altri coin ce ne è uscito uno in oro vediamo se quello in oro vale qualcosa coins vale solo 30 vabbè abbiamo 390 non è male io adesso però voglio fare una cosa voglio farmi la mia base segreta assolutamente perché mettete caso che arriva gente cattiva ok stone stick e si devo farmi altra cobblestone però ok ne abbiamo altri 18 pezzi io direi che vado sotto devo fare così la pala marci mannaggia te mannaggia qua io vedo sento gente di fianco a me ragazzi ok ma cosa fa questo ha 20 di vita sembra che non mi faccia ok vediamo si chiama dave si chiama gli sto facendo un sacco di danno guardate mi fa vedere quanti cuori ha mi sa che con altri cuori perché mi dice di no perché mi dice di non ucciderlo se mi sta dicendo di no mi ha detto mi ha detto di non ucciderlo mi ha detto vediamo mi ha dato qualcosa non mi ha dato niente allora ragazzi dobbiamo passare la notte quindi adesso mi chiudo vado sotto terra mi chiudo e spero che non mi succeda niente davvero ok amici è giorno ehi creeper seguimi seguimi per favore non farti devo ucciderti devo ucciderti ok oh cosa è uscito sul fur ma non si può vedere come io mi ricordo che stamattina se facevi uti ti faceva vedere un po' di cose ok col sul fur non posso fare niente di chi sinceramente per adesso ma a noi non ci interessa vedo solo che qua c'è una roba bianca non so l'avete vista anche voi c'era una roba no raga c'era una roba bianca c'era una roba bianca e l'ho vista ma non c'è più ma che vedete che c'è una roba bianca la 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 l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista vediamo un po' era esattamente qua sotto l'ho vista che era qua sotto non mi puoi scappare allora capiamo un attimino cosa c'è nelle vicinanze allora qui abbiamo visto che c'è una meteora va bene c'è una meteora ma mi sembrava prima prima di iniziare a registrare che ci fossero delle strutture ecco tipo là c'è una struttura voglio andare subito a vedere che cosa c'è perché magari ci è nascosto qualcosa e potrebbe essere una cosa interessante e dopo andiamo a finire appunto la nostra base segreta allora fa una cosa creeper esplodi se riesce esplodi esplodi ok se esplodi mi fa un favore perché mi fa farmare un po' di terra tanto qua a noi non ci serve che la terra non sia farmata ok perfetto voglio andare però a vedere quel posto lì che posto è questo qua posso rubare i blocchi non lo so andiamo a vedere andiamo a vedere prendiamoli che carini questi blocchi vediamo un po' come si chiama questa cosa qua si chiama tin wall block ma se io faccio così mi fa craftare qualcosa tin wall block boh non serve a niente ah ma qua si scende ok eeeh forse è meglio che io non scenda qua dentro vero questo sta prendendo danno perché prende danno ok no ragazzi se sto qua teoricamente ma c'è un boss ma c'è un boss c'è un boss leggendario c'è un boss leggendario c'è un boss leggendario ragazzi c'è un boss leggendario posso ucciderlo forse posso ucciderlo forse ok vediamo quanti cuori ha questo qua io voglio provare a uccidere il boss leggendario ragazzi ha 128 cuori ok però in teoria se lo continuo a colpire dovrebbe morire questa 60 ditemi che mi da qualcosa di super bello ditemi che mi da ok ok che ragazzi prendiamo tutta questa roba a questo punto e saliamocene brutalmente ok da lì devo salire da lì devo salire da lì devo salire da lì devo salire ragazzi ho paura che arrivi qualcuno forse questa cosa non l'avrei dovuta fare amici non avrei dovuto fare quello che ho fatto ne siamo usciti tra virgolette vincitori va bene però non lo facciamo più ragazzi senza avere delle cose ragazzi è meglio assolutamente non andare benissimo ragazzi a questo punto torno a casa e vado subitissimo a mettermi a fare la mia base segreta bellissima stupenda incredibile comunque è quasi un tesoro nascosto quello che abbiamo trovato perché abbiamo trovato un botto di cose interessanti ok voglio farla qua sotto la mia base segreta quindi voglio innanzitutto che le scale siano leggermente più grosse di queste qua perché mi danno proprio fastidio le scale fatte da due poi tanto tutta questa struttura sopra la toglieremo ragazzi e la faremo con calma fatta per bene direi a sto punto di prendere le torce metterne qualcuna qua e vi dirò anche la mia la verità io voglio farla di grandezza 3 questa scala perché mi piace di più di grandezza 3 quindi tanto qui per adesso c'è la cobblestone sopra che ci para facciamo in questa maniera e togliamo tutto e poi lì sotto facciamo l'ingresso per la nostra base segreta stupenda incredibile bellissima ok direi che a questa altezza più o meno dovremmo essere ci mettiamo anche qua qualche torce non è che illuminino così tanto queste torce però direi che qua sotto è perfetto adesso mi piazzo qua ragazzi ha finito anche quest'ascia qua ha un utilizzo c'è quest'ascia questa pala qua quindi facciamo un'altra pala e facciamo il nostro buco incredibile e vediamo un po' cosa ne viene fuori sono curiosissimo ok ci siamo dovuto craftare altre tipo tre di queste pale e direi che ci siamo mi piace molto la zona ma volevo vedere una cosa si possono craftare delle porte con la cobblestone non lo so ma secondo me potenzialmente si può fare qualcosa vediamo no non si può fare niente se io faccio così mi da i wall e così mi da i compressed cobblestone vabbè non ci servono ragazzi nel video di oggi abbiamo trovato un dungeon nascosto e adesso trovo bellissimo abbiamo fatto una semibase segreta che continueremo nel prossimo episodio io spero che questo primo episodio vi sia piaciuto ho la testa super gigante ci vediamo in un prossimo video dove sistemiamo tutto da Marcia è tutto ciao a tutti ciao a tutti